A pochi giorni il nuovo Presidente, ma è presente anche il mio predecessore, che prima di essere un predecessore è un amico con cui c'è continuità di politica. Allora in un Paese in cui c'è sempre discontinuità su tutto, non voglio entrare in merito, diciamo che la continuità su questo mi sembra una cosa importante. E quindi anche questo è simbolico, voglio dire il fatto che si sia in due, a rappresentare quello, oltretutto, Mazzè è stato uno degli animatori di questa iniziativa a cui anche io mi sono sempre rivolto con grande attenzione.